Grazie davvero per questa tua apertura, io proseguo nel specificare che ora più che mai guardare al futuro dei musei significa anche esplorare e sviluppare le possibilità offerte dal digitale nei diversi campi della conoscenza, del patrimonio culturale che ereditiamo dal passato e dal presente per proiettarlo nel futuro con i suoi valori. Ecco perché catalogare e quindi conoscere è il primo atto di valorizzazione che si compie nei confronti di beni e cose per stabilire l'importanza, la salvaguardia e la relazione con altri beni, cose e luoghi. Nell'ambito del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, PNRR, il Ministero della Cultura, d'intesa con le regioni e attraverso la Digital Library, ha progettato il Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, PND. Un ampio progetto quinquennale che dal 2022 al 2026 si accompagna la trasformazione digitale degli istituti culturali che conservano, tutelano, gestiscono e o valorizzano i beni culturali e testimoniali, innescando un processo di cambiamento per la realizzazione di una trasformazione organizzativa che permetta di incrementare l'interoperabilità dei suoi dati in piena coerenza con il Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale e altri sistemi operativi. Il PND, appena citato, non è un documento prescrittivo perché ciascun ente è chiamato a declinare, in accordo con le normative vigenti, la propria strategia digitale, lungo traiettorie di cambiamento condivisi in termini di principi e metodologie indicate dalle linee guida del PND, che sono di supporto al fine di creare un ecosistema nazionale della cultura fondato sul patrimonio culturale, i paesaggi culturali e le relazioni che innervano appunto il patrimonio culturale e i paesaggi culturali, nonché ampliare l'accessibilità di esso a più segmenti di pubblico. Le linee in guida del PND, quindi, offrono schemi processuali e modelli operativi utili per impostare un progetto di digitalizzazione con dati di qualità e in linea con i più aggiornati standard nazionali e internazionali. Pater e Samira sono in perfetta coerenza con il PND, in quanto la piattaforma Samira è certificata a SAS ed è compliant a quanto richiesto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, Agid, che procede poi con una verifica di ogni singola richiesta di certificazione e alla conseguente approvazione. Inoltre, Pater e Samira consentono la pubblicazione in formato aperto dei dati per interoperare, ovvero cooperare, scambiare informazioni e fornire servizi con altri sistemi informatici. Il catalogo regionale Samira Pater sarebbe già di per sé un ecosistema interdipendente, un sistema gestionale interoperabile, che offre contenuti ad hoc a seconda delle necessità e degli obiettivi dell'istituzione. Infatti, a oggi sono disponibili, in formato aperto, ben 164.532 dati presenti nel catalogo regionale, in coerenza con la catalogazione, la digitalizzazione e la validazione del patrimonio. e questo numero è destinato a crescere significativamente nel corso del tempo. Pater è utilizzato non solo da operatori museali, ma anche da operatori per il turismo culturale, nonché da operatori della sicurezza e della protezione civile per la salvaguardia e con un significativo incremento anche da dispositivi mobili, in particolare per i dati multimediali.